On my way, Control. Ehm... Feedback del cliente, noi dovremmo atterrare... Uh, eccolo, 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 eccolo. Stavo perdendo il parcheggio. Questa è un'area un po' più... Chiusa, del solito. Interessantemente. E abbiamo degli oggetti. Allora, vorrei riuscire a... Entrare nell'edificio. Mamma mia, qui, comunque. Le vertigini. Le vertigini che proverei. Potenziamenti. E mi sto incastrando, ok. Potenziamenti sempre 200... Ehi, quante cose devo vendere? Sì, 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 sì. Tecnicamente davvero quell'arto cibernetico... È realmente la nostra portata. Ora sta a vedere se lo prenderemo mai. Visto che sarebbe una cosa molto stupida, ma... Caro cliente. Quindi, sei la ultima persona che vede il mio figlio vivo. Penso che così. Niente, era con la Jill, lui, no? Capisco. Includendo tu? Beh, non avevo mai avuto pensato di prendere questa giornata me stesso. Cosa ha cambiato? Dopo la mia inheritazione è stata presa da me, ero lasciata senza abbastanza di money per sostenere il mio lifestyle. Anche dopo che Bill si è in le cloud. Bill? Quanti figli ha perso così? Ah. Oh mio Dio. Certo. Tu hai sentito i tuoi figli per morire? Oh, non per morire, per morire. Certo. Tu sei un monstro. Concordo. Sono un sogno. E così erano i miei figli. Infatti tu sei rimasta con le assicurazioni qua. Oh, per favore. Per favore, devo avere una risposta alla mia domanda. Voglio chiederti solo una cosa. Che? Tristemente era colmo di speranza, che so che è il lavaggio del cervello. Oh, è buono. E questo ci dà un miglioramento alla TV. È atroce quello che poi ho appena sentito. Non funziona così. Oh, mio Dio, Camus. Cioè, sta cercando attenzioni. Dice che sia per quello? O che stia cercando attenzioni? Esatto, perché è da sola. Esatto. Esattamente. We'll check in on her. She'll be fine. I'm sure she'll be fine. Should we bring her something? Like what? Water. Our home automata says our water ration is low. We have enough water to drink, though. Good water? Yeah. Well, grade three comes out of the faucet, and it should be fine for most. Maybe we should get her better water. She's probably used to grade one. Potrebbe prenderla un po' un po' per riuscire alle impurità qui Potremmo andare a un store, è... sul nostro canale Potrebbe, ma se lei davvero bisogna noi, potremmo spostare tempo Due colori hanno dovuto scegliere loro Non potevano bloccarmi con questo colore su un qualche questa secondaria Beh, qui abbiamo anche cose da esplorare, quindi... Benissimo, benissimo Penso che non ci sarà più di una scheda perforata, ma... Magari qualche... Era qua? Assolutamente no, qui ci siamo anche già stati penso Sono un po' indeciso oggi alla quinta Non che sia sempre... non che sia mai stato il mio punto forte, ma... Oggi è in particolar modo un punto debole Avranno qua tutte e cinque le bottiglie d'acqua, spero di sì, anche se... Spesso non è che abbiamo trovato... Così tante forniture... Nei singoli negozi Sto provando ad acquistarle da un altro venditore Adesso ne ho tre... Quattro... Cinque... Fatto Per questo Proprio per curiosità Abbiamo cinque... Grado uno del tipo che danno qui il senso impurità Eppure... Qui ci da... Ah no, ok, ci ho raccontato, ok Allora, torniamoci a Pashta con il suo vato premium made from fresh diamonds È made with... Pfff Sto esagerando, Camus Ok, ero solo curioso di vedere se fosse necessario andare proprio in quel negozio Cioè... Pare di no Positivo Ho giusto fatto una piccola deviazione ed ho trovato quel paio di schede perforate quindi che ci mancavano Si immaginava in realtà Si immaginava in realtà Doctora Dzidzic e io avevamo un argomento Lei ha detto che mi dovrei esqueci cosa è successo Posso farlo dietro a me e continuare Io... Voglio morire Ricordi cosa era che ti ha fatto sentire che non puoi continuare? Alla periferia ho incontrato qualcuno Cosa... 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 Anche ancora non ricordi, maleditta Evelyn Cosa succede a loro? Sì Sì In amore Con chi? Con me Quindi... Cosa era il problema? L'ho amato molto profondamente, ma non li li ho potessi non li ho amare Non dovresti sentirei culpita di questo Non lo capisci Non lo capisci Non li ho capisci Non li ho potessi non li ho amare No importa quanto volevo L'ho amato molto Non li ho amato Si... Ma se li ho amato Non li ho amato Non li ho amato Lo senti Era come... Era come... Being able to taste But not swallow Being able to see the sun But not feel it's warm Oh capito Bloccato da un vedro Sì 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 I still don't get it Some androids can't love and yet still they feel whole Some can and they can feel everything For me it is much worse I can feel the hole inside me where love should be and I can feel that it is not there Do you remember anything else about the periphery? About Dr. Zizic? I remember little I struggle to picture their face But I remember that I was the one that posted the punch card under your door The first one Why? I asked Dr. Zizic to change my core programming to forbid me from searching for the lost memories I knew you travel through the city you might find them you might help me recover my memories So you lied to me Do you understand why? Do you? No No But I want to Altre 20 Ovviamente Figurarsi Non garantisco che troveremo altre 20 scade perforate, signori Perché sarò molto sincero Questo gioco ha un punto debole che è l'esplorazione che non trovo affatto divertente Sarò onesto Quindi vedremo Vedremo che succederà Pasta, ti parlo subito Non prima di aver messo una TV nuova E un poster di doll 4.50 Il frigo? Il comunicatore Beh, magari 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 la macchina del cerolo Ok Ho detto Non è una brutta casa Adesso Dai Il replicatore è scoperto Non è scoperto Non abbiamo una Esatto Perfetto. Questi adolescenti. Przez wróćmy, zrobimy coś fajnego. Przez wróćmy. Dobrze, zobaczę ciebie. Dobrze? Cześć, zobaczę cię znowu, Pashta. Przez rozmowę później. Czemu mogę słyszyć Kamis? Czy to jest ten sam? On może transmisować przez komu, kiedy jestem w domu. Słuchaj? Cześć Kamis! Zobaczę się w domu i zobaczę wszystko, aż ty wróci. To dobrze, ale to nie jest w domu, Pashta. Pamiętaj to. To jest właśnie gdzie jesteśmy. Zobaczę. Wiesz. Zobaczę. Zobaczę. 14FC, musimy wyrównać się z tym miejscu. Zobacz. 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 Zobacz, zobacz. 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 Zar indyłap dzienny makers. se il pulso ti mette, Cloudpunk ti mette. Abbiamo solo una licenza per 5 havas in questa zona. Quindi? Tu sei la numero 6, loro hanno già il resto. Quanto tempo ho? Non c'è sufficiente per le domande, vai! Entenduto. Beh, Avalon Ice è già qui. Fortuna che ci siamo mossi mentre parlava verso l'auto. E via! Stavo notando poi che la conversazione con Evelyn in italiano ha messo al femminile, non riuscivo ad amarla, ma in inglese usava il neutro, cioè quando non si sa il sesso di cui stai parlando, usava il dem. Quindi non sappiamo se si è innamorata di un gender neutral, tipo un androide senza sesso, o se semplicemente non fosse rilevante il sesso nella frase, o se fosse una questione di rispetto. Vedo molto, molta attenzione riguardo alla sessualità e i posi sessuali le questioni di genere, diciamo. Beh... È una cosa comunque... assolutamente positiva. Ah, ma io mi sono rilassato! Ah, ok, infatti dicevo che... vedevo che c'era ancora il... Ok, meno male, grazie. C'è una democione, certo? Oh, per lui... Per te è un'opportunità. Non blozzarlo. Ok... Ci sarà qualche comunicazione? Ah, qui me ne ho perso uno. Terribile, ma adesso non atterrerò. Questa è una domanda. È... ... da William. Chi? Il androide di cleaning, ricordi? Certo... ... 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 E pensa che siamo di fronte a quel... ... 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 Intrappolare persone Avrebbe senso Ha già ingannato Un sacco di persone E potrebbe fare danni in futuro Vorrei salvare i residenti ma No Il rischio è troppo grande Il rischio è troppo grande Andrò con l'isolamento nonostante Sarei molto tentato di staccare la spina a William Non mi piace la sua voce No infatti Mio Dio Li fa morire Oddio Non lo so Non lo so Terribile questa cosa diavolo E chissà quando lo scopriremo cosa Cos'è successo E Quasi Sono quasi convinto che ne sarà andata male A questo punto terribile Sì Hm. Oh, Dolly. Che sappiamo non essere la vera Dolly. Ho un punto di navigazione per prenderlo. Buona luck. Andiamo. Life Corp. Che ansia. Che ansia. Solo due minuti? Non è la cosa più bella del mondo che mi stai dicendo. Avrei dovuto parcheggiare la macchina più vicino, in effetti. Diavolo. La vedo molto complicata. Molto complicata, è in vero. Ma ci proviamo. Più veloce, ragazzo. Più veloce. Abbassati. Alzati. Giriamo. Finché ci sta ancora lo sprint. Mmm. Mmm. La vedo grigia. Sarò onesto. Anche perché ci fa perdere tempo mentre... ...usciamo dal tunnel. No, non ci fa perdere troppo tempo. Ma ce lo fa comunque perdere. Eh, oddio. Il tempo passa lo stesso, sì. Toglietevi. Stai buono. Stai buono. Stai buono. Stai buono. Non posso farvi fuori del standard Cloudpunk Hobbit Damage Penalty Fine. Sai che forse ho sbagliato parcheggio. Il che vuol dire che abbiamo fallito malamente la missione. o forse no. Quindici. Oh, oh. Attenzione. Fatto. Fatto. 14FC, il pagamento è già arrivato. Tu hai fatto qualcuno molto bene. Mamma mia, questa è stata proprio al pelo. Sì, stai buono, il mio cuore bruciato. Se potessi, potrei rilasciare i miei occhi. Ora esploriamo un po' questo luogo. Ho trovato questa card card encryptata. Pensi che potremmo leggermelo? Non sono davvero un automata decrypto. Sono più di un automata in un parco. Quindi non c'è un modo. Scanning. Ci sono marcazioni sulla card card. 1, 7, 9, 8, 5. Tu sei certo. Chi ha avuto questo, in realtà, scrive il suo numero di pin. Dobbiamo rilasciarlo. Puoi andare a un holocache. CEO di Spacula Enterprises. Deve aver perduto il card card holocache. CEO? Quindi avremo rilasciarlo? Ho un punto di nav per la spacula HQ. Voglio vedere questo account prima. Siamo... Stiamo ancora decidiando. Ok, abbiamo un holocache in questo settore? Ne abbiamo di... Sì, sì, ne abbiamo uno qui. Ok. Ora, se ci sono un sacco di soldi la cosa potrebbe farsi... moralmente complicata. Uno, sette, nove, otto, cinque. Sette e venticinque. Ma ormai siamo ricchi. Ma nulla. Gli li diamo, gli li diamo. Allora. Possono state, che ne so, diecimila. E comunque chi è che scrive il suo pin direttamente su... Ma... Deve essere un vecchio rimbambito fondamentalmente. Questo CEO. Vediamo se controllo pure altro a dirci. Un altro automata o... parte... di Cora, probabilmente. È vero, anche io sento un... Molto lento, sento. Ah, è vero, devo andare a... a riparare. È vero, è vero, è vero. A scena uno qua, guarda. Ah, devo andare proprio da Emmett. Come missione. Ok, andiamo da Emmett. Perché no? Non andrò qui. Però prima... Abbiamo proprio qua dietro... In un quartiere che ancora non abbiamo... esplorato, fra l'altro. Interessantemente. Da riconsegnare questa... Ehm... Com'è che si chiama? Carta magnetica. Va bene. No, non mi puoi aver chiuso qua fuori. Maledetti. Vedi che sono proprio delle cose che ti fanno perdere tempo senza nessun reale motivo. Ehm... Peccato, peccato. Dialoghi così belli, ma esplorazioni così... Onestamente poco interessante. Se fosse stato un... Tutto dialoghi... E spostamenti automatici... Stupendo. Ma così è. Noi, ho una carta per ritornare. È il Mr. Spaculous. Noi lo chiediamo, ma non credo, vero? Ma no, Camus, dai. Perfetto. Perfetto, noti l'autorizzazione del Mr. Spacula, 78D54. Ok. Proveremo questo... È un altro codice holocash. È un codice holocash. Certo che se me l'aveste data direttamente avrei fatto un pizzico prima. Ma ok. Ok. Era lontanissimo. Poi con questa velocità ci ho messo una vita. Comunque se volete notare in alto... Riporto le schede perforate a Evelyn. Bene, ho deciso... Di violenza... Di crearmi schede perforate. Ovviamente dove andrò continuerò a esplorare. Perché poi, come vedete, ci sono queste secondarie che vengono. Ma dover andare poi magari apposta a cercare schede perforate per Evelyn... No! Ma siamo così avanti. Che voglio assolutamente sapere come andrà... Diciamo la vicenda. Quindi ne abbiamo 41 al momento perché poi ne ho trovato un'altra. Spero basti, no? Spero non fossero più di altri due step. Lo scopriremo. Ciao Emmett. Mi ricordi? Sì, sì. Hai cercato di trovare l'oldo Joe. Sei da Skypunk. Quasi. Ah, sì, è vero. Scusa, il mio Hava ha una malattia. Credi che potresti guardarlo? Non è che sia povera adesso, però... Visto che mi hanno fatto venire qui apposta. Credo che i costi di recuperare avvicinano i miei valori per la notte. Beh, non sono il migliore meccanico in l'area, ma non sono il prezziato nemmeno. Non ti garantire se posso evitare. Especialmente per vedere come hai portato il convertito di drive e scoperto Joe's debt. Grazie. Comunque ecco. Allora, vedo il problema. Ci ha fatto guadagnare comunque a riportarglielo alla fine. Il karma, il karma. E quanto ci fai pagare per solo questo? No problemi, figlio. C'era un'efficienza facile. Dalla un amico che veniva qui per il loro prossimo riporto e io considero noi anche. Solo così? Davvero? Eh, quel pilota. Era un po' vecchio. Oh, ha finito tre più raccoglie. Davvero? Ma mi fa piacere. Dai, meno male che noi gli abbiamo stroncato la carriera. Ma no! No, e quindi alla fine è morto. Dopo che ha vinto. Ah, diavolo. Non ti senti male per lui. Non voleva quello. E niente, mi ha riparato a gratis, quindi. Stupendo, mi ha neanche rifatto il carburante. Wow! Questa è la rubrica, o un altro feedback di chi? Dice, obbligatorio, read. Cosa significa obbligatorio? La stessa cosa è mandatorio. Esatto. Significa che questa job succede. Read la messaggio. Por favor, accettate un messaggio video. Ho bisogno di parlare con te. Abbiamo anche salvato la moglie. Forse ci odia per questo. Abbiamo salvato sua moglie, nonostante tutto. Io intanto sto andando verso Evelyn. Già. Avete bisogno di qualcosa? Sono un pizzico. Non stavo negando. Ma hai portato il mio amore back to me. È bene, non è un problema. No, non... No, non... So witti! Immagino che sia comunque un modo per essere Disponibili Immagino E cento lin Questo è il grande Allora Settantotto Sertanto The Hova Alerts Subsystem He seems very angry The system is a he? Whaat? I communicate with many subsystems And they often choose a gender And all the subsystems have personalities? No, not really Just a few of the doer ones And a human might not think of them as Personalities, exactly How do you mean? Often, automata Ok Di fatti Abbiamo appena fatto riparare Addirittura Ok potrà aspettare Che noi si parli un attimo con Evelyn allora Ho già detto che è un mostro No Cioè sono detto da ricca in una notte ma Mmm Sì ok ma non puoi darti la colpa Sarebbe potuta uscire per andare a fare la spesa Questa cosa che mi dice è gravissimo E la privacy proprio fu Ma è tutto il diritto di tenerli ovviamente Ancora gender neutral No non è semplice Però si fa Non lo so Sto cercando Spero aiutare chi mi possa Qui in Novalis Spero fare la circostanza Per il purpose Buona luck Grazie 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 Perché come avete visto Da quell'olocache C'erano 750 lin Qualcosa del genere In quella tessera magnetica La ricompensa era di mille Quindi è solo il CEO Che ha voluto dire Vabbè tanto per me sono solo spicci Grazie Perché la tessera magnetica Mi era utile Come per il conto Tipo Bah Ok Evelyn forse l'abbiamo completata Forse E è un po' che stiamo avendo Quasi soltanto Normali accadimenti Pashta è a casa Che si sta abituando Anzi non è casa È il luogo dove abitiamo Si sta abituando lentamente La ragazza Ma per il resto Pare Le cose si stiano calmando Il problema è Cosa sta facendo il pallid E cosa sta facendo Cora Ciao